Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È un momento questo difficilissimo per il calcio terramano che ha dovuto dire addio alla Serie C. Infatti ieri il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società bianco-rossa che chiedeva la riammissione alla terza serie nazionale. È stata rigettata anche la richiesta in subordine di Serie D e la delusione dei tifosi terramani è davvero tanta. È finito, come altre cose in questa città, anche il calcio. Nel frattempo c'è chi ha lavorato però per assicurare un futuro al calcio bianco-rosso. Ufficialmente ha preso il via il corso della nuova società SSD Città di Teramo. Resta da capire però in quale categoria. Il sindaco di Teramo, Gian Guido Dalberto, ha inoltrato alla federazione la richiesta di accreditamento con parere largamente positivo del progetto della nuova società Città di Teramo a cui hanno contribuito circa 40 imprenditori terramani di sicura fidabilità. Come recita la nota diffusa dall'amministrazione comunale che a tal proposito ha precisato che ogni decisione finale è devoluta alla FIGC ai sensi dell'articolo 52 delle NOIF alla quale compete l'esercizio della facoltà di ammettere in luogo della società esclusa una nuova società ai fini della partecipazione al campionato anche in sovranumero di Serie D. La richiesta di accreditamento è stata inviata nelle sedi opportune e competenti accompagnata dalla relativa documentazione. Conclude la nota dell'amministrazione, ogni attività sarà svolta nel pieno rispetto istituzionale degli organi federali a cui la nostra comunità rivolge con forza la richiesta di assicurare dignitosamente il futuro del calcio terramano voltando definitivamente pagina in discontinuità con il passato. In teoria la palla ora passa al governo del calcio italiano ma la procedura non è facile da avviare per una questione di tempo. Il campionato di Serie D inizia tra otto giorni. La FIGC e la Lega Nazionale di Lettanti lunedì mattina dovrebbero rendere nota la decisione ma non è da escludere che il Teramo debba ripartire da un altro campionato regionale come la promozione.